Bene, questo è molto interessante, finalmente vediamo quanto tempo ci farà, ora è chiaro che i tempi sono quelli che sono, vediamo se ci cambiamo a vedere quando questo posteggio è interrato a Ibla. Dicevo questa storia dei comuni che sono stati in qualche modo aiutati dalla regione, sono tutti i comuni in dissesto che hanno grossi problemi e su questa storia c'è una piccola polemica fra l'assessore Abbate e Nello Di Pasquale. Nello Di Pasquale oggi ha fatto un post, chiaramente lui non li fa perché non ama molto fare questo tipo di comunicazione, però forse si è così un po' addombrato su un piccolo scontro con l'assessore Abbate. E pubblico questo post, ve lo facciamo vedere. Grazie.